Attenzione, va sul fondo, mette in mezzo! No! Perché questo è il biscuit che Sterling la mette! Un Sterling di testa! Due gol su tre partite! Due gol Sterling su tre partite! Erikay, meno bello! Zero gol! Questo non è biscotto, questa è torta! Ma chi è il mediano... Il 7 ha fatto una bella azione! No, quello che ha fatto tutta l'azione, il mediano di colore che hai sceso? E l'ho fatto tutta l'azione! Sacca! Sacca! Il giovane dell'Arsenal! Ma è così forte? Perché è fortissimo anche il football manager, ma io non l'avevo mai visto! Mi pare, ma c'è... Sì, però il passaggio che l'ha fatto è il tuo idolo Grilish! Morbido come una mousse al cioccolato! Delizioso! Raffinato come un bicchiere di soterna! Assaggato da Ibrahimovic, per la quale Giannogos ha rotto le palle! Esatto! Che aveva la sua bella mousse, Ibra gli ha messo in cucchiaino! Esatto! Raffinato come un bicchiere di soterna! Bang! Giorgio, sei convinto? Bella palla! Però io non ho detto niente! Sono i campelli! Bel passaggio! Io tra l'altro... Ma l'azione l'ha fatta Sacca, che ha fatto una roba... Sacca-Grilish! Sì, ma poi Grilish l'ha messo in mezzo!